Un'altra pianta è un'altra pianta di Bonsai Saku. Questa pianta ha ricevuto, molti anni fa, un importantissimo premio alla Sakufuten, che è l'esposizione bonsai dei professionisti giapponesi. Prima questa pianta appariva molto diversa, adesso ha subito un grossissimo restail delle branche, perché non c'erano le branche quelle sotto che adesso sta coprendo. Il maestro Kobayashi ha dovuto aspettare 30 anni per costruire quelle branche che adesso state vedendo e ultimamente sta finendo il lavoro a facendo allungare quelle là. La pianta quando ha vinto il premio era così, come può appare nel libro. E qui quando ha preso il premio, nel 94, ma adesso ha ricominciato a cambiare lo stile. E ultimamente ha deciso di creare una branca veramente lunga, quella che potete ammirare ancora a grezza filata. Come questa. Questa. Sì. Welcome to the customer. È un benvenuto ai visitatori. Come il fanno? Si. C'è l'inchino? Si. La prossima è questo pino, è una pianta molto famosa. Prima questa pianta aveva un collo molto lungo. Quella eh. Aveva un collo veramente lungo. Quindi il maestro Kobayashi ha rimosso il legno all'interno di questo collo e l'ha bendato per compattarlo. In solo tre mesi ha effettuato un cambiamento drastico. Da così a così. Questa pianta ha preso il premio del primo ministro, che è il premio più importante del Giappone nel 1999. Questa è una dei pezzi più importanti. E gli Yamadori? Si, ovviamente. E gli Yamadori. Non possiamo fare così bui movimenti. È impossibile avere questi bei movimenti senza... specialmente. Sì, questo è quasi un Junipero. Questo è un vecchio Junipero, sempre gli Yamadori. Questo è molto difficile da trovare nel giro Junipero. Ah ok. È molto difficoltoso fare delle piante così nel terreno coltivate. È impossibile, devono essere i Yamadori. Sì. È impossibile ammirare piante molto belle. È molto interessante. Dei movimenti molto interessanti come questo. E questi bei twist sono ammirabili nei Juniperi, infatti in natura. Sì. Questa pianta ha preso i premi e è entrata in molti cataloghi. Ma tre anni fa ha subito degli innesti che hanno cambiato drasticamente il suo fogliame. Questo è il grosso di Toigawa. È molto piccolo, nel medio. Ah, perché hanno innestato il Toigawa che ha un algo particolarmente corto e compatto sulla vegetazione di prima che invece era molto grande e sfatta. Ok? E qui ci sono molti pini neri di pregio. E probabilmente ha un'età stimata intorno agli 800 anni. E' probabilmente il pino nero più grande del Giappone, con il tronco più grosso del Giappone. Per il realismo. Sì. Tronco. Qui non hanno soltanto conifere, pini neri e ginepri, ma hanno anche molte latifoglie. e durante la primavera queste danno il meglio di loro. Infatti potete ammirare le azalee e altre varietà da fiore molto belle, come cameglie o stevaglie. Molte persone sanno che sono bravo a fare le azalee. E' un'azzaria molto importante e molto grossa con una bellissima struttura. Questo qui è il laghetto delle Koi. E' stato fatto nel 1998. Ed è alto più di due metri per la salute delle piante. Ed è stato fatto personalmente dal maestro, senza aiuto degli studenti. Il maestro l'ha scavato personalmente. Il laghetto. L'ha scavato personalmente il maestro. Non fa soltanto bonsai. Non fa soltanto bonsai. Ragazzi entriamo nel museo. Per entrare nel museo vi dovete togliere le scarpe. Buon a po' il tuo il tuo. Ha fatto un po' il vo Faithe? Eh, sì. Perトuncal. E' un po' il tonto ne è un po' il fatto tutto? Si, anche tu. Qui abbiamo 15 mesi. Qui c'è una delle belle belle montagna. E qui abbiamo un Tokunoma dove è esposta una bellissima pianta primaverile, con un'esposizione primaverile. Guarda che un ramo con i fiori rosa tinta. Sì, è molto bello. Ah ok, solo un ramo con i fiori rosa, è molto freddo. Ah ok, che ha aperto soltanto fiori rosa, perché neanche di altri colori. E c'è un altro di altri colori? C'è un ramo. Un fiori, forse. E questo è un ginepro. E questa è una combinazione tra lo scroll, il bonsai e gli spazi vuoti. E il tenpai, però se notate dove guarda la pianta è vuoto. Questo carattere dice che tutte le arti esterni hanno bisogno di guardare qualche arti, sentire che ha un forte potere e sentire il movimento. Questo è il più importante. Che significa il movimento? Ah sì, è solo il movimento. Questo perché il movimento è molto forte e basta solo far provare grosse emozioni e fa seguire l'occhio dell'osservatore sul vuoto. E questo il Buddha esposto come tenpai guarda questa magnifica esposizione. Questa pianta ha già vinto dei premi. Nel 96. E appariva così. Così. Ok, e questa è un'esposizione del nuovo anno con il Jujubai che sta a simboleggiare la riva della primavera e il sole che sorge che vuol dire l'inizio dell'anno che sta salendo. Questa è la combinazione tra bonsai, scroll e accompagnamento è molto importante. e in questo caso è molto ben coordinata anche come diciamo la forma e i colori. Come tutti gli stili sono ben accompagnati. Se qualcuno ha delle domande sarà felice di rispondere. Qualcuno ha delle domande? Per caso? Adesso no. No. Fini. 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 In Giappone e in Cina è relativamente facile trovare vasi molto vecchi perché sono molti anni che li producono. Wabi Sabi è la cosa più importante per pensare. Se nulla ci ha, ma ci troviamo molto felice. È una emozione molto strana. Che il Wabi Sabi quindi l'abbinamento corretto di due prodotti, di due oggetti vecchi assieme come la pianta e il vaso è molto importante per avere un feeling positivo e sentirsi felici. In Giappone ci sono esposizioni per quattro stagioni. Inizia dalla primavera, passa all'estate cambiando, muta per l'autunno e poi arriva all'inverno. Il Wabi Sabi è molto fresco. E durante la stagione primaverile, come questa a cui stiamo andando incontro, bisogna vedere i colori dei fiori e gli aghi, eccetera, devono avere sempre i colori scintillanti. Infatti non hanno esposto piante con colori smorti. Hanno tutti dei colori scintillanti che vanno verso la primavera. In inverno, invece, è importante esporre piante che hanno un feeling spento per far sentire la durezza della stagione. Perchè bisogna perdere l'emozione ma poi ritrovarla durante l'arrivo della primavera. E' importante che lavori molto anche l'immaginazione all'interno del Tokonoma. E quindi creare dei Tokonoma che siano quasi tristi è importante per poi avere un'emozione forte la volta dopo. Un tempo tutto il tronco andava verso il retro, ma il maestro Kobayashi l'ha modificato facendolo venire verso il fronte e facendogli fare il twist. Ha un movimento molto bello come si trova sui Ginepri, quelli di Yamadori che abbiamo visto prima, ma questo è un pino nero ed è una cosa abbastanza rara perché non è comune. E questa pianta è considerata uno dei pino nero numero uno nel Giappone. Questo ha preso un Kokufu Agua, quindi un premio della Kokufu nel 1999 e la pianta che abbiamo alle nostre spalle anche lei ha preso un premio sempre alla Kokufu. Questa pianta è specialmente apprezzata dal maestro Kobayashi. Questa pianta è specialmente apprezzata dal maestro Kobayashi. Ok, è molto particolare perché è tutta viva e con una chioma omogenea e non è facile perché queste piante normalmente tendono a perdere molti rami naturalmente e proprio per questo è straordinario che li abbia mantenuti grazie alle loro capacità di mantenerla. Non ci spiega come va. Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! A mezzo paolo! Buon lavoro! Ah ok! Che naturalmente muoiono facilmente ma tenendo ben areato il terreno. È una pianta davvero bella! ok andiamo al prossimo display questo è uno stile Bungin di una pianta di Ginepro è un tronco piccolo molto semplice ma con un gran bel movimento specialmente i Bungin sono molto belli per le esposizioni in una stanza simile a questa questo è il posto dove fanno il fuoco mi sono sempre testo ma il fumo dove va? ah per il fumo ah si, utilizzano il bambù quindi non fa fumo non fa fumo la stanza del tè è veramente silenziosa questa è la stanza del tè? si la stanza del tè è silenziosa concentrata si può sentire il suono si può sentire il luogo quindi questa stanza è una stanza molto silenziosa ed è adatta per concentrarsi e visto che si può sentire il rumore del fiume esterno si può, lo scroll normalmente è sempre riguardante l'acqua in questa stanza ma la porta è quasi bassa c'è un filo più ricchino per entrare o c'è? e perchè la porta è così piccola? prima della fiazionale del tè è la Piazza di Sennodi generale o il tè è un posto pacifico e se alcuni generali o altri samurai abbiano equipati del soldo si possono entrare all'interno L'ha fatto perché la cerimonia del tè era un posto pacifico e quindi nessuno poteva entrare con delle armi in questo spazio. Se volessero entrare con una spada non riuscivano. E quindi dovevano mettere fuori le armi e entrare in pace. In questa cerimonia, ogni relazione è pari. Perché ogni relazione in questa cerimonia è pari. E' un posto di pace in mezzo a Tokyo. E' un posto di pace. Che è un posto di pace in mezzo a Tokyo e non è facile trovare. E concentrandosi può trovare la pace come se si fosse in qualsiasi altro luogo più tranquillo. Il maestro viene qua nel canale a meditare? A volte il Master Kobayashi viene qui a meditare. Alcune volte, poco, ma lo fanno. E' sempre, purtroppo sempre impegnato. E' un'unica differenza che c'è di una vera stanza del tè. E' la porta grande che c'è lì che utilizzano per mettere all'interno le piante un po' più alte. E' un'unica differenza che c'è lì 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 che c'è lì. Con il metodo drew come più alto il gamba. Mi don ceremony come stanno lavorando per costruire il nuovo posto. E anche il maestro dirige il lavoro. e per primo dall'esercito. Sì, i tipi di tokonoma giapponesi. Anche in casa. Sì, in casa facoltosa però. Questa calligrafia è una calligrafia giapponese molto famosa. Significa che in montagna trovi il freddo all'inverno. E non puoi trovare niente, neanche delle piccole piane. Ma nel concetto giapponese basta, immaginando la primavera si può trovare la felicità. E quindi hanno messo, affiancato questa calligrafia, una pianta con i fiori per contrastare questa poesia molto dura e far trovare comunque la felicità all'interno della composizione. Sì, è molto bello. Ok, quindi andiamo qui. E poi vogliamo trovare i bonsai. Grazie. Grazie. Poi, in saliamo per vedere gli altri vasi bonsai. Tutti questi vasi vengono dalla Cina Prima dell'epoca di Edo, tutti utilizzavano solo vasi giapponesi per le piante Ma durante l'epoca di Meiji molti giapponesi hanno cambiato questa usanza Utilizzando anche altri vasi Perché il problema era che avevano dei vecchissimi bonsai ma non dei vecchissimi vasi E per questo hanno iniziato a utilizzare dei vasi vecchi quanto i bonsai Perché questi vasi hanno tutti un aspetto molto vecchio, molto patinato